L'incontro sabato sera per appuntamento era stato pianificato con grande cura. Ad una certa ora, in un appartamento al Cova, lei, anzi lui, visto che si spacciava per donna senza esserlo, lo avrebbe accolto e in cambio di un po' di denaro gli avrebbe concesso mezz'ora d'amore. Gli accordi telefonici però hanno trovato resistenze perché lei, lui, José Edwin Londono Munnera, transcolombiano di 29 anni, non appena il suo cliente, quello che l'aveva contattato telefonicamente, si è presentato, ha alzato la posta. Ha richiesto un supplemento di denaro alla somma concordata. Il cliente, che forse era ignaro del particolare, che lui fosse un trans e comunque assolutamente non intenzionato a pagare in più per il rapporto sessuale, ha solo fatto in tempo a voltare alle spalle. In un istante il trans si è lanciato al collo e dopo averlo minacciato, con il tacco 12 di una scarpa, gli ha tolto il denaro. Lui, sconsolato per avere perso i soldi senza la mezz'ora d'amore a pagamento, non ha fatto altro per chiamare la polizia. Gli agenti, legati verso l'abitazione indicata dalla vittima in Viandrone, non sono riusciti a convincere il trans ad aprire la porta, che veniva scardinata dall'intervento dei vigili del fuoco. José Edwin Londono Munnera è stato arrestato con l'accusa di rapina.